Buongiorno, è normale che qui passino i mezzi? È normale? No, no, mi spieghi, mi spieghi, io sono un consigliere comunale, ho chiamato i carabinieri, sì, sì, ho chiamato io, ho chiamato io, sì, sì, lei intanto deve dare rispondere a me e a lui che siamo consiglieri comunali. Volevo interlocuire con i carabinieri, posso? Consiglieri? Ci lasci con i due secondi, ho dato. Volevo interlocuire con i carabinieri, ho chiamato i carabinieri, ho chiamato i carabinieri, ho chiamato i carabinieri. Questa qui, rappresenta l'azienda, è stato tagliato il guardrail, è inutile che ride, lei deve rispondere ai tarantini, lei deve rispondere ai tarantini, è stato tagliato un guardrail. Illecitamente, si rende conto? Si rende conto? E i camion transitano, sì, sì, ed eviti di ridere, pensi ai malati di cancro, pensi ai malati di cancro, sì, sì, prego, 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 lo dica l'azienda, rida, 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 rida.